Ciao c'è youtube qui con voi è Shalevuma, Zai e oggi siamo in un nuovo video Oggi siamo in un nuovo video di compravendita Ma prima di iniziare il nostro tutorial di compravendita Come vedete qui nel negozio abbiamo un pacchetto gratis per i 7 anni di foot Da 15.000 crediti Io direi di andarcela ad aprire E vediamo cosa ci esce Vuol darsi che siamo fortunati Vediamo un po' L'apertura lentissima Dai almeno un giocatore raro mi deve uscire per forza Vediamo il fuoco ragazzi Vidal Sì ho scurato Ho scurato In un pacchetto gratis Ragazzi che fortuna In un pacchetto gratis E questo mi faccio una squadra tedesca qua Spacco proprio i culi Non lo posso vendere Però bene beh che bel pacchetto ragazzi Grande fortuna Io direi che dopo questa piccola sculata Vi dall'ina pack ragazzi Possiamo cominciare il nostro tutorial di compravendita La compravendita di oggi è basata sugli stemmi delle squadre della Premier League Come vedete quindi nella lista di trasferimenti Ho venduto qualche stemma del Chelsea 450 crediti Arsenal 400 Arsenal 450 Liverpool 400 300 Tottenham 300 Tottenham Diciamo che il prezzo degli stemmi si aggira sui 300 400 crediti Qualche volta si vende anche a 500 crediti Allora ragazzi andiamo sul mercato Mettiamo stemmi Qualità oro Campionato Barclays Club Allora io vi consiglio questi club Andiamo a vedere subito il prezzo Allora vediamo Arsenal Vedete ragazzi Arsenal si vende a 800 Ma credo che si venderà a 700 crediti Vedete ragazzi qui mancano 10 minuti Io faccio un'offerta di 400 Per venderlo a 600-700 crediti Poi ragazzi vi consiglio anche il Chelsea come squadra per gli stemmi Dovete prendere tutte le squadre più importanti della Barclays Qui ha 600 crediti Vediamo Sì si può comprare ragazzi Abbiamo comprato anche uno stemma a 600 crediti Per venderlo a 750-800 crediti Ragazzi vi consiglio anche l'Ester City Lo stemma si vende sui 700 crediti Anche Liverpool ragazzi che si vende sui 700-650 crediti Poi ragazzi abbiamo Magister City Vediamo a quanto si vende Si vende a 800-700 crediti Su per giù quello è il prezzo Voi dovete acquistarlo sui Dai 200 fino a 500 crediti In Magister United la stessa cosa Sempre sui 600 Ah qui un po' di meno Anzi 350 io lo acquisto E lo vendo a 450 crediti Anche se è poco A meno quel minimo di guadagno ce lo faccio Poi ragazzi come ultima squadra abbiamo il Tottenham Che abbiamo uno stemma a 200 crediti Che me lo prendo subito Vedete ragazzi anche il compralora esce subito Voi ovviamente dovete provare due metodi Il compralora E il metodo dell'asta Potete usare tutti e due i metodi benissimamente Ovviamente ragazzi potete provare anche gli stemmi di altri campionati Però dovete andare a vedere gli stemmi più importanti Io direi che la compravendita di oggi può finire qua Questo video ragazzi è stato anche scolato Per il pacchetto che abbiamo aperto per i 7 anni di foot Ho trovato Vidal ragazzi Ho scolato in un pacchetto gratis Ovviamente è un gran metodo questo Lo dovete provare Ci fate dei guadagni assurdi Quindi lasciate un like Commentate Condividete il video E noi ci vediamo al prossimo video Bella!